Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qua con il mio amico Francesco e mi ha portato alla sua Playstation per farvi vedere come sostituire l'hard disk interno della Playstation per aumentare di spazio, per renderlo più veloce o anche entrambi. Comunque sia, vi faremo vedere come cambiarlo e come reinstallare ovviamente il sistema operativo. Vi servirà una chiavetta USB per installare appunto il sistema operativo sul nuovo hard disk e un hard disk esterno qualora voi vogliate fare il backup dei vostri dati dei giochi o di tutte le applicazioni che avete installate. Quindi niente, iniziamo e vi facciamo vedere come si fa. Per prima cosa, se volete effettuare il backup dovete recarvi su impostazioni e andare sulla connessione voce che si chiama sistema e andare su backup e ripristino. A questo punto, prima di premere su eseguivi backup, dovete collegare un hard disk esterno ovviamente superiore alla capacità della vostra PS4 perché se avete per esempio 500GB e volete trasferirli tutti sul vostro hard disk dovete averne almeno di più di 500GB. È abbastanza semplice. Quindi colleghiamo semplicemente il nostro hard disk alla PS4 Risive backup PS4 Selezioniamo la partizione e qua gli diamo yes. A questo punto lui vi calcolerà tutto lo spazio che avete appunto nella vostra PlayStation e vi dirà esattamente quanti dati dovete trasferire sul vostro disco. Potete anche selezionare ovviamente le catture le possiamo anche togliere sono i video registrati dei giochi che non ci servono più tanto non ve li trasferirà comunque i dati salvati ovviamente sì le applicazioni ovviamente sì i temi se ci interessano sì oppure no e poi possiamo andare avanti ovviamente vi dirà che il backup è di 646GB vi dirà il nome appunto del backup quindi sul disco troverete questa cartella con questo nome ma non è importante tanto poi lo riconoscerà in automatico quando ripristinerete tutto e andiamo e via e parte mentre la vostra PS4 fa il backup possiamo aprire l'hard disk è un hard disk questo qua da 2TB e l'ho messo anch'io sulla mia e l'ho consigliato anche al nostro amico Francesco e niente questo si chiama Barracuda lo trovate su Amazon vi metto il link in descrizione costa circa 70-75€ dipende poi dagli sconti su Amazon i prezzi vanno e vengono e comunque ve lo consiglio perché come rapporto qualità prezzo è uno dei migliori perché di hard disk 2TB a questo prezzo non se ne trovano molti e ovviamente è un hard disk normale non è un SSD ma comunque sì e se vi serve più spazio 2TB sono più che sufficienti questo è il nostro hard disk come vedrete molto bellino lo metto alla luce eccolo qua e niente vi facciamo vedere adesso come si monta bene siamo qua nel mio garage perché adesso arriva l'installazione dell'hard disk questo è quello che abbiamo appena scartato per aprire la vostra PS4 quindi per cambiare il vostro hard disk non dovete altro che far diciamo scorrere il tappo quindi la parte più piccola della vostra playstation verso l'esterno quindi fate una leggera pressione in mezzo e scorrete così verso l'esterno eccolo qua e si dovrebbe togliere poi lo alzate verso l'alto ed ecco qua questo è il vano dove viene inserito appunto l'hard disk l'unica cosa che poi dovete fare è svitare questa vite diciamo che c'è qua in cima quindi dovete svitare questa vite qua la prima che vedete quindi la andiamo a svitare quindi una volta finito il backup possiamo andare a levare appunto il vecchio hard disk che si trova in questo slot diciamo di metallo e andiamo a svitare tutte le vitine che ci sono qua intorno come vedete ci sono delle vitine nere che sorreggono l'hard disk che lo proteggono dalle vibrazioni e lo andiamo a togliere quindi una volta che abbiamo tolto tutte le viti l'hard disk verrà via e mi raccomando fate attenzione al verso appunto inizialmente era così quindi anche il nuovo hard disk dovrà essere inserito allo stesso modo quindi diciamo a pancia in su quindi leviamo appunto il primo hard disk ed inseriamo quello nuovo e voilà così e poi riavvitiamo ovviamente tutte le viti bene una volta avvitate tutte le viti possiamo reinserire il nostro vano dell'hard disk e appunto come vedete combacerà perfettamente con la vite quindi rimettiamo la vite del blocco che avevamo tolto prima bene quindi l'installazione dell'hard disk è terminata adesso dobbiamo reinstallare il sistema operativo sul nuovo hard disk possiamo quindi rimettere il nostro tappo alla nostra playstation ed e voilà vecchio hard disk lo possiamo anche togliere e ecco la nostra playstation con il nuovo hard disk e adesso vi faccio vedere come riavviarla e come creare la chiavetta usb per prima cosa dovete procurarvi una chiavetta da almeno un gigabyte di memoria e successivamente basta che vi richiate sul vostro computer aprite il vostro browser internet e cercate software ps4 una volta che vi avrete trovato i risultati cliccate sul primo sito e scorrete in basso finché non trovate la voce appunto del software di reinstallazione del sistema di ps4 a quel punto lo scaricate cliccando semplicemente sul pulsante e attendete che il download termini una volta che avete scaricato il file sul vostro desktop potete iniziare a creare la vostra chiavetta quindi inserite la chiavetta nel vostro pc una volta aperta dovete creare una cartella all'interno chiamata ps4 tutto in maiuscolo dopodiché all'interno della cartella ps4 dovete creare un'altra sottocartella chiamata update e infine all'interno della cartella update potete inserire il file appena scaricato quello di reinstallazione del sistema operativo a questo punto quindi possiamo riconnettere appunto la nostra ps4 con tutti i vari cavi e possiamo iniziare ad avviarla con il nuovo hard disk una volta avviata la ps4 vi darà questo messaggio di errore ma non vi preoccupate tutto normale quindi prendete il vostro joystick il cavo e dovete connettere il joystick alla vostra ps4 a una qualsiasi presa usb una volta connesso premete il tasto ps come vi viene scritto nello schermo e improvvisamente come avete visto la schermata cambia e vi fa installare il sistema operativo a questo punto potete collegare la vostra chiavetta appena creata all'altra presa usb della vostra ps4 una volta fatto questo potete procedere quindi cliccando con il joystick su ok attendiamo un attimo e vi riconoscerà la penna usb per poter reinstallare il sistema operativo di ps4 una volta finito di caricare vi dirà che la vostra ps4 verrà inizializzata appunto perché deve reinstallare da capo tutti i file all'interno del nuovo hard disk quindi noi procediamo con si e a questo punto possiamo aspettare che la nostra ps4 faccia tutto il suo lavoro ok ps4 si sta riaccendendo ovviamente riapparirà la classica intro della playstation come se l'aveste appena comprata ovviamente ci sarà la schermata di introduzione quindi premiamo il tasto ps e possiamo procedere appunto con la prima configurazione mettiamo la lingua italiano e bla 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 configurate la vostra connessione e tutto il resto intanto ovviamente la chiavetta potete rimuoverla perché tanto non mi serve più ok una volta finita la configurazione ps4 si avvierà senza niente dentro quindi non ci sarà né il vostro utente non ci sarà niente e adesso appunto passiamo al riprissino prendete quindi l'hard disk esterno che avete utilizzato per il backup e connettetelo alla vostra playstation alla porta usb ovviamente una volta che l'hard disk sarà connesso dovete recarvi sulle impostazioni impostazioni e voilà impostazioni poi scorrete fino in basso ed andate su sistema una volta che siete sul sistema andate su backup e ripristino come prima ed andate su ripristina ps4 scegliete la stessa partizione che avete scelto prima per fare il backup automaticamente lui vi riconoscerà il backup che avete fatto precedentemente quindi schiacciate x andate su ripristina si e adesso dovete attendere che la vostra ps4 ritorni completamente come prima quindi ragazzi per questo video è tutto ho rimontato tutta la playstation con il nuovo hard disk adesso ho 2 tera quindi di giochi mi ce ne stanno un bel po' se il video vi è piaciuto ovviamente lasciate un like spero vi sia stato utile iscrivetevi al canale anche con la campanellina per non perdervi altri nuovi video io vi saluto noi ci vediamo nei prossimi giorni con un prossimo video ciao